Stefano Riccagno, qui presente in duplice veste, una è quella di direttore generale di Cuvage che è questo brand molto particolare, bollicine naturalmente, di MGM, mondo del vino, e l'altro di cui parleremo dopo, che è quello di vicepresidente senior del Consorzio dell'Asia. Allora, cominciamo con le bollicine di Cuvage. Insomma, Cuvage ha nel suo DNA, nella sua missione questa cosa delle bollicine, settore battagliatissimo naturalmente, non facile, ma insomma si è ritagliato uno spazio. È così? È così, Cuvage dopo oggi sono circa 11 anni di attività, sta, devo dire, funzionando bene. L'azienda è una realtà ormai consolidata in Piemonte, dedicata prettamente alle bollicine sia a Metodo Classico che a Martinotti. Soprattutto continuano i progetti che abbiamo cominciato a studiare, a pensare, appunto circa 7-8 anni fa, di interpretare le bollicine piemontesi in modo un po' innovativo. Vedi il nostro nebbiolo d'alba rosato, che ha almeno circa 30 mesi di affinamento sui lieviti. Vedi l'altalanga, sulla quale si sta ampliando la gamma. Abbiamo anche un blanc de blanc, quindi solo chardonnay, e sta per arrivare tra un anno circa la riserva. Abbiamo, siamo molto contenti dell'idea e del progetto sull'Asti Metodo Classico, che dopo una prima prova con il 2014, con il millesimo 2014, stiamo registrando un gran bel interesse e un prodotto che può veramente riscontrare molte positività sul mercato, con il millesimo 2017 e adesso siamo invece usciti qui a Venite con il millesimo 2018. Asti Metodo Classico, sempre con un residuo sucrino dolce. E questo è un assist per arrivare al ruolo di vicepresidente segno del Consorzio dell'Asti. C'è molta carne al fuoco in questo consorzio, ci sono molte attività di comunicazione, di promozione, di valorizzazione della denominazione. Ecco, dove vuole arrivare il Consorzio dell'Asti? Il Consorzio dell'Asti innanzitutto ha voluto in questi due anni di nuovo riprendersi un ruolo che ha sempre avuto e che non è che non ci fosse più stato, ma sicuramente c'era bisogno di farsi risentire nell'immaginario del consumatore e comunque del settore. Abbiamo chiaramente definito di dare forza e sicuramente forza economica in questo senso i viticoltori partendo dalla base dei viticoltori l'abbiamo data e oggi con Grano Salis si sta cercando di utilizzare al meglio queste risorse sia in ambito di valorizzazione e di promozione della denominazione con tutto il ventaglio di prodotti, di tipologie di prodotto che si sono sviluppate, che si sono inserite all'interno del disciplinare, ma soprattutto c'è un grande lavoro che è partito circa un anno e mezzo fa e che sta continuando e che vedrà ancora, credo, qualche anno di grande lavoro che dovremo fare a livello di organizzazione del Consorzio interna nella struttura, anche magari in strutture fisiche che abbiamo voglia e piacere di creare nel nostro Piemonte. Un paio di domande per metterla un po' in difficoltà. Intanto la situazione internazionale che crea incognite sicuramente e l'altra cosa è ma la filiera non era un po' litigiosa questa dell'astisumante. È ancora così oppure c'è una... eh? Ma tu hai sempre parlato di Pax Moscato. Io credo che la filiera lo è sempre stata litigiosa o comunque insomma c'è stata sempre una grande voglia di confronto. Forse nella storia è stata anche litigiosa. Oggi forse abbiamo cercato di più che altro, più che di litigare ma di confrontarci. Lo stiamo facendo quotidianamente, un lavoro molto molto importante che porta via anche tanto tempo ma tanto impegno soprattutto da parte di chi ha voluto diciamo mettersi in rappresentanza di questa filiera come me, come gli altri vicepresidenti come Flavio Scagliola, Bruno Fortunato e tutti i consiglieri del Consorzio di parte agricola e non solo perché ci sono anche delle persone che oggi magari non sono, non siedono all'interno del Consiglio ma che comunque lavorano con noi, coordinano con noi tutte le attività soprattutto appunto di confronto all'interno della filiera. È un'attività che va fatta, la filiera è una filiera importante perché di fatto parliamo di circa 10.000 ettari e un'economia di tre province che di base oggi è l'economia più importante in Piemonte a livello di volume e comunque anche di valore perché insomma la reddittività della filiera sul Moscazzi, sul Mante è sicuramente molto importante in Piemonte. Quindi il confronto c'è, deve essere sempre aperto, siamo sempre aperti al confronto, siamo sempre aperti a farci, ci facciamo sempre molte domande in questo senso soprattutto sugli obiettivi che vogliamo raggiungere e il come raggiungerli. Credo che siamo sulla strada giusta, c'è appunto come ho detto prima, lavoro da fare, ce n'è tanto, non si può neanche pensare di poter fare ed arrivare agli obiettivi che ci stiamo prefiggendo in poco tempo. Dobbiamo darci le giuste anche tempistiche che sono, il tempo è sempre una condizione fondamentale e non bisogna avere voglia di vedere tutto subito perché tutto subito non si può. incognite per il futuro? Sicuramente la situazione geopolitica non ci fa stare molto tranquilli, eravamo in una situazione molto positiva, questa situazione del conflitto ci può mettere un pochettino in difficoltà perché sappiamo che per il last sumante il mercato della Russia è un mercato importante però al momento la situazione è quella che insomma il mercato in Russia ha comunque di scorte ce ne sono, stanno continuando a consumare il prodotto, l'Ucraina era un mercato che stava crescendo, abbiamo le aziende che erano molto attente su questi mercati e molto attive su questi mercati, è chiaro che un contracolpo ci sarà ma lo cercheremo di gestire nel migliore dei modi. Quindi l'augurio finale quale può essere? L'augurio è quello di continuare in questo grande confronto e una grande attività di riorganizzazione di tutta la filiera. Grazie. Grazie.